Sono referente del progetto di emergency nella provincia di Ragusa. Da circa un anno abbiamo attivato una clinica mobile nella cosiddetta fascia trasformata per offrire assistenza sanitaria ai migranti e alle persone in stato di bisogno che vivono in questa zona. Durante questo anno abbiamo visto tanti pazienti e abbiamo ascoltato tante storie. Purtroppo non tutte le storie sono belle. Tanti percenti agricoli vivono in condizioni disumane, casolari patiescenti in prossimità alle serre, condizioni igienico-sanitarie pessime, in alcuni casi manca la luce, in altri casi manca l'acqua. Molti percenti agricoli irregolari che non hanno il permesso di soggiorno temono di uscire, temono di accedere alle strutture pubbliche per paura di essere identificati e abbruscono la nostra clinica mobile. Questi migranti irregolari sono le fette della popolazione più sfruttata da questo sistema a base di sfruttamento. La maggior parte di loro non sanno nemmeno dell'esistenza delle feste del primo maggio. Addirittura alcuni di loro lavorano anche nelle feste del primo maggio. Il primo maggio è domani. Noi da parte nostra auguriamo a tutti questi lavoratori un futuro pieno di diritti e dignità e da parte nostra, finché ci è possibile, cercheremo di essere sempre presenti.